In primo piano ci concentriamo sul modo in cui verremo a sapere mano a mano i risultati elettorali sia noi ma anche i telespettatori di Rete 8 perché abbiamo in programma una lunga diretta come consuetudine, sentiremo e racconteremo il voto minuto per minuto a partire dalle 22.30 di domenica 10 marzo naturalmente il giorno delle elezioni regionali in Abruzzo con la collaborazione del quotidiano Il Centro Rete 8 proporrà anche una esclusiva cioè gli exit poll e le proiezioni che saranno curate dal sondaggista Antonio Noto della Noto Sondaggi. Vi ricordo anche, ma lo faremo più volte nel corso di questi giorni, che la nostra diretta inizierà alle 22.30 ma sarà anche possibile seguirla in streaming, il sito è www.rete8.it quindi potete raggiungerci o sul canale 10 del Digitale Terrestre o appunto dal personal computer. ma a spiegare poi tecnicamente cosa ci verrà proposto per capire l'andamento del voto sin dai primi momenti relativi appena dopo la chiusura delle urne naturalmente e delle sezioni elettorali per spiegare tutto questo c'è appunto Antonio Noto in collegamento in diretta con noi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, cominciamo intanto dal partire dal vostro lavoro e poi invece ci spiega anche la differenza fra exit poll e proiezione e anche i tempi che contraddistinguono queste due modalità. Sì, prima di tutto diciamo tra le 23 che è l'orario della chiusura dei seggi a mezzanotte più o meno, un po' prima di mezzanotte ovviamente divulgheremo i primi exit poll, probabilmente due. Che cos'è un exit poll? L'ex exit poll è un sondaggio effettuato fuori di alcuni seggi campione dove noi chiediamo ai nostri intervistati di ripetere il voto esattamente come è stato fatto qualche minuto prima della cabina elettorale, nel senso si riconsegna la stessa scheda elettorale e l'intervistato deve barrare con un X la lista e il candidato scelto. Ovviamente l'ex exit poll è un sondaggio per cui ha un margine di errore più elevato che intorno al 3-4% però è già un utile strumento metodologico per iniziare ad analizzare la tendenza, per iniziare a capire che aria tira se c'è un vantaggio netto di un candidato sull'altro o se non c'è un vantaggio netto e quindi bisogna in questo caso aspettare i dati delle proiezioni. Con le proiezioni le prime proiezioni si avranno dopo mezzanotte che cosa sono le proiezioni? Mentre con gli exit poll noi ci affidiamo al racconto degli elettori che ci dicono quale partito hanno votato, le proiezioni invece vengono effettuate a una metodologia diversa si individuano alcune sezioni campione, in queste sezioni ci sono dei nostri elevatori che ci trasmettono attraverso un tablet lo scrutinio scheda dopo scheda in tempo reale quando si arriva a una numerosità minimamente rappresentativa di questo scrutinio noi inizieremo a dare i primi risultati, i primi risultati si riferiranno ai candidati a presidente e quindi andremo a vedere chi dei due candidati sarà oltre il 50% perché essendo uno dei due deve essere per forza al di sopra e l'altro deve essere al di sotto e poi quando lo scrutinio è un po' in maniera più avanzata immaginiamo intorno all'una daremo anche i dati di tutte le 12 liste quindi daremo anche la percentuale di tutte le 12 liste Le faccio una domanda e poi lascio al suo lavoro sull'exit poll per quella che è la sua esperienza quanto è corrispondente all'effettivo voto dato dall'elettore? C'è anche chi bara per così dire un po'? Allora diciamo che in statistica si dice sempre così che ragionando sui grandi numeri c'è sempre l'elettore di sinistra che dice di aver votato a destra e l'elettore di destra che dice di votare a sinistra nel senso che la bugia non è una bugia ideologica e quindi ragionando su grandi numeri in teoria non ci dovrebbe essere in maniera significativa questo rischio poi è chiaro tutto ci può essere però le esperienze ormai sono più di 30 anni che noi facciamo le trip poll diciamo non è questo il rischio maggiore Grazie a tutti